Buonasera, buonasera a tutti, man mano che arriverete ovviamente. Eccovi, eccovi, vi vedo, vi vedo, vi vedo che state arrivando. Come state? Ma ragazzi, io sono stanchissimo, stiamo mettendo in ordine casa, buttando via le cose vecchie, buttando via gli abiti che non si usano più, pulizia degli armadi, mamma mia. Ciao Martiub, buonasera, ciao Alessandro, utente Cubase, sempre presente, buonasera, lo so, lo so. Ciao Samuele, ciao Eugenio, come stai? Marco, anch'io vi voglio bene, sappiatelo. C'è una certa, ciao AM, Freedom Fox, buonasera. Ah, Freedom Fox, sei Francesco, adesso l'ho capito. Ciao Francesco, Umberto Pagliaroli, Giussi, buonasera. Oggi appuntamento imperdibile, ma non lo sappiamo, vediamo. Sì, sì, qua tutto ok, sono un po' stanco perché, come dicevo all'inizio, stiamo mettendo un po' in ordine casa e sapete che quando si mette in ordine casa è un macello tutte le volte. Poi oltretutto, fra un po' mi arriva anche il computer nuovo, quindi voglio anche così prepararmi. Mi è arrivata l'hub, quella bellissima che vi dicevo, che confermo che è una meraviglia, ragazzi, è una bellezza assurda. E niente, dai, voglio fare ordine per poi avere il cervello in ordine per essere pronto per fare tutte le varie installazioni del computer nuovo e farmi anche qua, mettermi a posto anche il mio tavolo. Devo cambiare un po' di cose, devo, niente, bisogna mettere un po' di ordine. L'ordine per me è indispensabile, altrimenti poi mi crea veramente nervosismo in qualche modo. Quindi ne ho veramente bisogno. Hai finito proprio oggi di leggere il mio libro? Wow, bene Claudio, fantastico. E allora sei, ma infatti così era, io l'ho messa giù come corso di logico, ma siete tutti bravissimi. Facciamo una bella chiacchierata, vi faccio vedere un po' come lo utilizzo io, un po' le mie impostazioni. Poi chi ha letto il mio libro o chi ha fatto i miei corsi, già molte cose le ha viste come lavoro. Però così mi piaceva trasferirvi qualche skill per farvi rendere conto, vedo anche con i miei ragazzi in conservatorio, tante volte due tasti giusti ci portano a risparmiare tempo e poi ad avere un approccio un attimino più professionale con il software. Ma questo lo dico per tutti i software, non soltanto per Logic. Vedo ancora andare con il mouse a fare delle cose che non serve più farle, anche aprire i progetti. Dopo comunque vi faccio vedere chiuderli. Ci vuole veramente sempre un sacco di tempo. Ciao a tutti ragazzi, ma non siete tantissimi. Francesco è un ragazzo di Cremona con il quale molto probabilmente, un DJ, molto probabilmente inizierò una nuova collaborazione. Poi ovviamente sarete sempre aggiornati. Luca, buonasera. Logic gratis però appunto è una chiacchierata su Logic. Maurizio, Luke, Lord, Massimo. Massimo, saluti dalla spiaggia, mannaggia te. Il caldo taglia le gambe, infatti a fare quei lavori qua oltretutto sì, molto. Devi fare ordine ma c'è caldo, lo so, però ragazzi i momenti in cui uno ha più tempo sono questi, quindi quando si fa? Fino alla settimana scorsa avevo apporto che ne ho ancora da fare, però insomma complimenti per la mia bravura. Grazie mille, grazie mille Riccardo, grazie mille davvero. Dopo una lunga assenza per cambio caso oggi sono ritornato. Fantastico, fantastico, non ancora tutto a posto ma mi sto organizzando. E anch'io guarda, anch'io avrò un periodo nel quale sono un po' così, un po' sballottato. Un po' per l'ordine in casa, un po' perché non so bene ancora come piazzarmi, un po' di cose che devo cercare di sistemare. Perché, l'ho già detto la volta scorsa, però comunque ho ordinato il portatile, quindi finalmente passo al portatile definitivo per tutto. Però devo sistemare un po' di cose, ho la master che non so ancora bene dove metterla, se venderla, se tenerla. E poi c'ho qua dietro l'organo, poi mi è arrivata la master nuova dell'Arturia, la 49 tasti. E poi qua sotto c'ho il Nautilus, e poi qua c'ho la piccolina sempre dell'Arturia. E poi non so bene cosa fare col camper, se tenerlo, se venderlo. Insomma, sono in fase un po' di cambiamenti. Non so bene se tenere i due monitor o se utilizzare il portatile e il monitor. Devo un po' vedere. Ho preso il computer, ho preso il portatile, il MacBook Pro, bello carrozzato. E di Abbie invece ho preso la CalDigit, ma poi vi farò vedere tutto con calma. Dai, chiacchieriamo? Oh, è arrivato il pollice in basso, era un po' che non lo vedevo, grazie. Che bello sarebbe sapere chi è questo qua. Se avessi il coraggio di dirlo, sono io. YouTube è fantastico per questa cosa, che uno può mettere il pollice in giù e nessuno sa chi è. Pensate che cosa da... che gesto da vigliacco. Pazzesca questa cosa qua. Veramente, non lo farei mai. Cioè io non riesco a parlare male delle cose, piuttosto non ne parlo. Cioè secondo me è molto più elegante non parlarne. Invece se ne parli male, passi comunque nella maggior parte dei casi, passi sempre dalla parte del torto. È una cosa veramente brutta. Vabbè, chi se ne frega. Allora, dai, guardate che... Vi faccio vedere intanto la pagina che ho preparato con ICAM, che è stupendo. Dove vi fa vedere anche... Eccolo qua. Logic e me, nell'angolino. Poi dopo mi direte voi, se va bene come pagina per vedere un po' di cose. Ma comunque si dovrà vedere molto bene. Allora intanto, aspettate che rifasso un attimino sulla camera. Allora, intanto, diciamo che la parte che do per scontata, ovviamente, è un pochino così. L'acquisto e il download di tutti i suoni. Quindi di tutta la sound library. La quale... La quale la potete anche... Anche se ragazzi adesso non considero tanto le domande. Poi dopo ogni x minuti, poi magari mi fermo e vi rispondo. Non vi trascuro, non pensate. Dunque, dicevo, la sound library che è una settantina di giga di cose. E... Che dire, io vi consiglio chiaramente di scaricarla tutta. Perché comunque Logic è uno dei... La libreria, scusate, di Logic è uno dei punti di forza. Ha veramente tante cose. Ed è davvero un software only in one, come lo chiamo nel mio libro. Perché veramente ci si possono fare le produzioni, tranquillamente. Dall'inizio alla fine. E purtroppo, o anche per fortuna, adesso siamo in un periodo storico nel quale io vedo anche i ragazzi. Il primo pensiero che hanno quando installano un programma è di buttargli dentro dei plug-in. Senza magari sapere che tante cose invece molto utili, già Logic le ha. Sia da un punto di vista di effetti, che da un punto di vista di strumenti. Che da un punto di vista di libreria vera e propria. Di loop, di preset. Poi dopo vi faccio vedere la library è pazzesca ragazzi di Logic. Guardate, l'esempio più eclatante è il fatto che... Alchemy, che è uno dei più bei synth che ha dentro Logic, era a pagamento. Prima, prima era di un'altra azienda ed era a pagamento. E la gente lo comprava. Adesso ce l'abbiamo gratis. In Logic, tante volte andiamo ad aprire, boh, qualsiasi altro synth senza prima andare a guardare Alchemy. Che invece vi garantisco che Alchemy è un synth di tutto rispetto. Ma anche tutto il resto dei synth che è dentro Logic. Quindi, il consiglio che vi do è quello di scaricare il programma. Dopodiché, come dire, installare tutta la library. Quello che faccio io, io la library di Logic me la installo sempre all'interno del mio computer. Perché ritengo poi adesso che avrò il portatile ancora di più. Perché ritengo che se io staccio il computer e vado in giro, vado in un altro studio, vado a fare un lavoro da un'altra parte, almeno il pacchetto di Logic ce l'ho tutto. Ho tutto completo. Eccolo qua. Erika che mi sta portando un goccio d'acqua. Grazie. E quindi ho tutto completo il mio programma e posso comunque lavorarci. Perché ho tutto dentro del disco. Tanto adesso, ragazzi, è ovvio che i tagli dei dischi che dovete mettere all'interno dei vostri computer, se volete affrontare questa spesa, vi consiglio di farla almeno di un tera. Perché in questo modo si possono mettere dentro un po' di cose. Tenete conto che solo Logic occupa all'incirca 70 giga. Quindi già lui è un bel impegno. La library, un po' di software, il sistema operativo, eccetera, eccetera, capite bene che si fa la svelta ad arrivare veramente a delle taglie importanti di disco. Quindi una volta che l'avete installato e una volta che avete scaricato tutta la libreria, vi trovate appunto nella situazione, diciamo, salto un pochino, la primissima fase, quella nel quale Logic gratis per tutti significa che sto facendo una lezione gratis un po' per tutti. Vedo che qualcuno lo sta chiedendo. Non ho dei Logic gratis da distribuire. Io non vendo i software, quindi faccio divulgazione, didattica e sono musicista, quindi. Quindi insomma, quindi avete installato il programma, vi trovate, diciamo, più o meno in questa condizione, nel senso che questo è già il mio primo progetto che mi sono fatto come template per avere già un progetto dal quale partire. Cosa che ovviamente vi potete fare tutti. in casi che adesso comunque pian piano vi faccio vedere. La library la trovate sotto il menu preferenze. No, scusate, pardon. Perché adesso qui è cambiato, vi devo spiegare questa piccola cosa. Che nelle nuove versioni le preferenze si chiamano settings e invece qua si chiamano ancora preferenze. Io sto lavorando con la versione 10.7.4, non perché non vada bene il 10.7.8, ma perché sto lavorando con il mio computer che per il momento ha su Big Sur e quindi non riesco ad andare oltre il 10.7.4. Il 10.7.8 invece ce l'ho sul portatile. Quindi qua trovate tutto il manager per poter gestire la vostra libreria e da qua potete gestire anche il fatto di potervela mettere su un altro disco cosa che vi comunque, che vi sconsiglio di fare. Lo trovate qua, relocate sound library. Sotto relocate sound library potete decidere un disco esterno per poter installare la libreria. Non tutta, tenete conto, perché comunque gli Apple Loop vengono installati all'interno. E diciamo che una volta che è arrivata questa pagina principale uno dei primissimi aspetti che vengono affrontati innanzitutto va abilitato a tutte le sue funzionalità. Logi, quando li installiamo, da nuovo non è abilitato a tutte le sue funzionalità. E' diciamo un GarageBand un pochino più potenziato però non è il vero e proprio Logic Pro. Il vero e proprio Logic Pro lo trovate sotto le preferenze in Advanced Tool. Dovete andare a flaggare Enable Complete Features e in questo modo avrete tutte le feature di Logic abilitate e avrete Logic veramente completo. Chiaramente se avete scaricato tutta la library. Ci sono anche i plug-in presenti in Apple? In Apple, perfetto. Dopodiché, fatto questo, la prima cosa della quale abbiamo bisogno cos'è? Sarà creare delle tracce. Per creare delle tracce c'è questo tastino qua in alto con il più. Ve lo faccio vedere soltanto la prima volta perché poi dopo non lo apriremo mai più questa pagina perché la cosa che vi consiglio di fare è quella di aprire di aprire delle tracce empty. In questo menu, voi quando aprirete il vostro primo instrument vedrete che vi si aprirà con un channel strip già già presettato dalla Apple, da Logic con un piano elettrico e già anche qualche mandata aperta. Secondo me la cosa migliore è che quando inizio io preferisco avere una traccia vuota quindi attraverso questo menu posso decidere appunto di avere un empty channel strip e la stessa cosa la posso fare con l'audio quindi decidere che voglio una traccia vuota senza nulla di aperto quindi non voglio aprire la library voglio che mi faccia soltanto la prima traccia. Una volta che ho creato le prime due ammettiamo una traccia audio e una traccia software instrument il modo migliore per aprire le tracce da utenti esperti è quello di schiacciare Command Option S per aprire le tracce software instrument e Command Option A per aprire le tracce audio questo è il sistema migliore per aprire delle tracce tenete conto che sembra un'operazione molto difficile ma ma tenete conto che Command Option lo schiacciate con il pollice in questo modo tac S tac A quindi in questo modo andate ad aprire molto facilmente credetemi le tracce sia software che audio vi do già l'informazione ve ne do già un'altra informazione che invece con Command Shift U scusate Option Command Option U invece apro una traccia drummer il drummer poi magari lo vediamo anche un attimino più nel dettaglio dopo ecco quindi le prime cose che devo fare diciamo andare ad aprire delle tracce per vedere un pochino come funziona la mia pagina principale di Logic ogni traccia poi può contenere al suo interno delle regioni e questa è una differenza abbastanza sostanziale c'è tutto ciò che noi andiamo a creare all'interno delle nostre tracce se vogliamo per esempio aprire una regione nuova possiamo in una traccia software instrument con il clic destro aprire questo menu e dire create MIDI region questa è una regione MIDI creata all'interno di una traccia software instrument tenete conto che la differenza sostanziale è che questa è una regione e invece questa quindi tutto l'insieme delle regioni se io avessi più regioni per esempio scusate che ho fatto il loop invece che allungarla se io avessi più regioni vedete che selezionando la traccia vengono selezionate entrambe questa invece è la traccia quindi tutte le regioni compongono le mie tracce e il metodo i due metodi diciamo più a portata di mano per iniziare a fare i primi esperimenti con Logic sono sicuramente i preset quindi la library e gli apple loop due tasti vi dico vi dico dove sono i pulsanti da andare a schiacciare scusa l'interruzione quindi dai ti rispondo subito i colori delle tracce che si creano in automatico l'ha impostato in origine allora si può impostare volete vedere subito come si fa si può impostare nei project settings se non mi ricordo male project settings o aspettate che non mi ricordo se è project settings oppure perché come vedete anche io non è che mi ricordo proprio tutto 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 no forse una preferenza aspetta preference display tracks eccola qua adesso mi è venuto in mente eccole qua preference display tracks oppure settings display tracks se avete le versioni nuove ecco che qua può insegnare l'autocolorazione delle tracce e anche dei marker però tenete conto che questi colori vivaci che vedete e tutte le tracce colorate anche nel mixer sono date dall'LPX colorizer che è un piccolo software che si acquista in aggiunta però vi dico che veramente sono boh 40 euro mi sembra spesi molto molto bene ho anche fatto un video se volete andarlo a cercare qua sul canale dove ne parlo quindi cosa stavamo dicendo stavamo dicendo che le prime due strade per così andare un po' a studiare e ad iniziarci un po' nell'utilizzo di Logic sono sicuramente la library e gli Apple loop gli Apple loop sono un direi un arsenale di loop che logic ha la pagina si apre con questo pulsante oppure con la lettera O e qui troviamo come vedete dal numero scritto qua sotto 29.000 loop sì non avete letto male veramente 29.000 loop e che dire la grossa difficoltà quando si ha molto materiale a disposizione è la ricerca la ricerca però la posso fare in diversi modi allora qui in alto innanzitutto ho un menu dove mi permette di determinare diverse library come vedete ho ho diverse tipologie modern RMB electro house insomma già qua dubstep già qua suddivido un pochino la library e vado un pochino a filtrare la selezione oppure in questo modo vado a scegliere invece strumenti quindi vado ad applicare dei filtri riguardanti gli strumenti oppure il genere musicale oppure le varie descrizioni che possono essere vedete distorted ensemble dry eccetera eccetera e anche qua vado a fissare un po' di paletti per facilitare un po' la ricerca oppure un altro modo in questo piccolo pulsantino apro la possibilità di filtrare quindi di avere soltanto i loop audio che sono dei file audio a loop che sono le iconcine queste qua azzurre oppure soltanto i software instrument loop quindi questi qua verdi soltanto i pattern loop e soltanto i drummer loop la cosa molto interessante quindi che vi invito a fare a provare perché fa molto bene per lo studio di logic è quella di aprire per esempio i software instrument loop perché con i software instrument loop cosa succede? oltre che alla parte diciamo midi viene importato anche il preset che lo compone quindi una volta che io lo importo semplicemente prendendolo e trascinandolo sulla scrivania oltre che alla regione midi quindi oltre che alla regione midi con dentro le varie note ho anche come vi faccio vedere dal mixer ho anche il preset che lo compone quindi ho anche questo drum kit già pronto utilizzabile dalla mia tastiera quindi se io vado a suonare sulla mia tastiera il risultato sarà che sento suonare questo drum kit e con già anche delle proposte di catena di effetti quindi già posso cominciare a smanettare un po' in mezzo agli effetti a vedere un pochino cosa succede e di questo genere chiaramente ne trovo di tutti i tipi trovo tutto batterie kit violini archi chitarre bassi vocal trovo veramente di tutto sia in midi che in audio e questa qui è la prima strada che vi consiglio perché comunque mettete insieme un po' il discorso midi con l'editor midi e mettete insieme un po' anche i primi i primi channe strip che vi create un pochino come dire da studio un preset che utilizzate da studio oppure un'altra strada è la library la library si apre con il tasto y oppure con questo pulsante con il cassettino però vi consiglio ovviamente il tasto y con la o andiamo a chiudere un attimo la library e scusate con la o ho chiuso gli apple loop e dalla library un altro aspetto molto importante a livello di studio che potete trovare è quello che la libreria è veramente magica come dico anche nel mio libro e anche nei miei corsi la libreria è proprio magica perché vedete questo triangolino la libreria segue esattamente la posizione di questo triangolino quindi tutte le volte che noi spostiamo il triangolino la libreria si mette a disposizione di quello che noi andiamo a selezionare se per esempio guardate apriamo un software instrument e diciamo voglio caricare un suono di basso un suono di basso come finger style vedete che il triangolino azzurro adesso è di fianco a settings dove ho le impostazioni complete del mio canale apro finger style e a questo punto vedrete che lei ha aperto un sampler che ovviamente conterrà i campioni e i suoni di basso dopodiché un bass amp quindi conterrà appunto l'amplificatore del basso la simulazione contiene un compressore una pedal board con appunto un fuzz come vedo e un eco benissimo a questo punto guardate se io rimango con il triangolino su settings io posso chiaramente andare a cambiare tutto il mio channel strip come potete vedere se invece io sposto il triangolino e dico ammettiamo mi piace tutto però vorrei cambiare il pedale della mia pedal board invece che entrare nella pedal board non faccio altro che spostarmi con il triangolino quindi cliccando qui di fianco e a questo punto mi si apre una libreria dedicata totalmente alla pedal board se io lo sposto di fianco al compressore mi si apre una libreria dedicata completamente al mio compressore che poi è la stessa che troviamo ovviamente nel menu è sempre questa però capite bene la comodità che abbiamo invece ad averla sempre qua di fianco se io mi sposto di fianco al sampler ecco che mi si apre la library dedicata al sampler quindi è veramente una potenza e anche in questo caso abbiamo un filtro qua in alto dove ci può andare a mettere qualche paletto e ci fa vedere delle diverse librerie oppure tutti o il sound quindi dove ho tutto e quindi queste sono le due strade secondo me migliori per intraprendere appunto il cammino verso logic per iniziare e già questo credetemi che che è un un grande atto di competenza perché tante volte si cerca si va a pescare di qua e di là senza magari avere visto che già in logic c'è dentro un sacco di cose è veramente se avete qualche domanda intanto fatemi qualche domanda che magari riguardanti queste due o tre cose che abbiamo parlato finora così poi andiamo avanti ecco dove clicco per spostare il triangolino allora non so se riuscite a vedere ma quando passiamo di fianco alle slot diventa grigiolino vedete lo spazio del triangolo se io clicco di fianco alla slot guarda si accende il triangolino azzurro ok vi faccio anche vedere una piccola curiosità se andiamo nel mixer e ci portiamo nella main window la traccia master guardate il triangolino della library mi fa puntare una libreria da mastering dedicata appunto alla traccia master guardate con dentro un miliardo di preset veramente tanti preset già pronti per il mastering jazz ballad basic insomma poi qua potete così utilizzarli per studiare vedete poi mi sposto quindi il triangolo sul compressore mi si riaprono mi si riapri la library sul compressore guardate che sono è veramente bello complesso da questo punto di vista però è molto comodo è molto molto comodo questa cosa vedrete provate provate che vedrete che vi troverete molto bene qualche altra domanda riguardante questi argomenti se ne avete ditemi ah per far apparire vi do il comando tastiera per far apparire la traccia master sulla pagina principale che è command shift m guardate grandissima comodità se dovete fare un'automazione per esempio sulla traccia master super comoda il mixer si apre con la X anche questo è molto importante dopo di che allora direi che hai sganciato delle bombe più che delle lezioni ragazzi ma questa qui è veramente la base cioè io quando quando vi dico che mi arrivano mi arrivano domande di mastering e magari la gente non sa che ci sono queste cose è per quello che io ci tengo tanto alle basi è per quello che il mio libro l'ho fatto così perché secondo me sono queste le cose che mancano di più perché nel resto siete tutti bravissimi però vedo poco l'approccio al programma no? l'approccio nerd al programma non so bene come dirvi come hai fatto a spostare la traccia stereo sulla mainboard ecco command shift m e quindi poi vediamo vediamo sempre rimanendo nelle basi allora i tasti i tasti principali quelli ragazzi mi raccomando questi tasti qua vanno buttati tutti via mi raccomando quando vedo andare qui con il mouse aiaiaiaia la vedo brutta quindi con la barra spaziatrice play e stop con i due punti andiamo avanti di una misura con il punto e virgola andiamo indietro di una misura tenendo premuto lo shift andiamo avanti di otto misure con il due punti e andiamo indietro di otto misure con il punto e virgola quindi avanti indietro avanti di otto indietro di otto play stop quando carico un software instrument preset non voglio che mi aggiunga di default mille cents che vanno ad incasinare dopo ti faccio vedere comunque è qua guarda Fabio aspetta come si fa il caffè con logic eh guarda si può fare tutto e quindi aspetta cosa stavo dicendo dunque tasti principali ok sì la R per registrare ok se sono già in play e ho la tastiera estesa posso utilizzare l'asterisco per entrare in registrazione e per uscire e questa qui è molto comoda dopodichè vediamo altri tasti importanti Marco nel menu file c'è la voce import MIDI audio file perché in Ableton manca solo drag and drop beh non lo so non lo so perché in Ableton manca qui si può fare l'import ma può anche fare il drag and drop anche qua eh tenens non c'è nessun problema quindi dicevamo tasti principali avanti indietro l'abbiamo visto ah una cosa veramente veramente importante guardate vi faccio vedere vi apro un attimino un po' di importante insomma una cosa molto comoda che se tengo premuto il tasto shift il play parte dalla regione selezionata shift barra shift barra ok oppure se fisso un punto con il marky tool di questo ne dovremo parlare sei mesi non so se oggi ce la facciamo perché in questa chiacchierata è un po' così comunque con il tasto command se clicco e fisso un punto quando schiaccio play logic parte da quel punto lì quindi lo posso fare ovunque anche qua fisso il punto quando parte vedete questa è una cosa veramente comodissima beh chi si è collegato adesso poi ve lo potete rivedere intanto il video comunque lo lascio lì per tutti per sempre quindi non preoccupatevi poi altre cose vediamo niente vi ho detto più o meno tutto di questo inizio registrazione play stop la configurazione ah sì il display che solitamente è molto piccolo quello che mette lui di default con questa freccettina potete andare a mettervelo custom e una volta che l'avete messo custom con il click destro in uno spazio vuoto qua nella barra in alto potete aprire il customize control and display quindi qua potete accendere spegnere tutto ciò che vi serve qua potete accendere spegnere tutto ciò che vi serve del transport stessa cosa della prima serie di tasti e stessa cosa dell'ultima serie di tasti quindi volete non so togliere il master volume da lì basta che lo spegnete qua e poi tenete conto che bisogna applicarlo come salvarlo scusatemi come default ah una cosa importante differenza fra le preferenze che adesso si chiamano settings e i project settings tutte le preferenze vengono salvate insieme al programma quindi qualsiasi software aprite scusate qualsiasi progetto aprite si aprirà sempre con le preferenze che voi avete impostato qualsiasi progetto qualsiasi song invece non succede la stessa cosa con i project settings i project settings invece sono legati al progetto quindi se volete impostarvi dei project settings per voi una volta che l'avete fatto dovete andare a salvare come template il vostro progetto come ho fatto io così quando l'andate ad aprire ecco che avrete questa pagina dove troverete i vostri template il mio template che è questo la mia autoload quando l'apro l'aprirò sempre impostata in questo modo sia da un punto di vista di impaginazione che da un punto di vista di preferenze che da un punto di vista di project settings questo è molto importante allora aspetta che vediamo se c'è qualche domanda reg durante play con la tastiera non estesa la R sempre la R shift R per uscire la traccia che è chiamato basic e sulla quale ho fatto vedere i presenti preset master in realtà sarebbe il mix bass sì 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 è il master sì è il mix bass lo stereo out 1 e 2 quando registri un audio chitarra voce cosa fai col volume modifichi il volume sulla traccia lo abbassi a 9 db no attenzione no no il volume sulla traccia non c'entra nulla ecco la registrazione cioè questo è il volume di uscita quindi non c'entra nulla il volume lo dovete impostare con il gain della vostra scheda audio importantissimo bravo è fatto bene a farmi la domanda ciao Cesare una volta importato un loop di logic come faccio a sapere in che chiave sta suonando devo aggiungere il tuner nel channel strip no c'è scritto guarda guarda Cesare c'è scritto la chiave nella quale suona di fianco ciao Marco ti avevo già chiesto una volta ma poi ho provato e non ci sono riuscito la curva di dinamica MIDI in my stage una schermata per creare una curva personalizzata il logic si può fare allora tutto questo il logic lo puoi fare da qua da more quindi qua hai tutte le varianti diciamo della dinamica della quantizzazione eccetera oppure ancora di più una pagina un po' avanzata però te lo dico subito è la pagina del transform che adesso ti faccio vedere dov'è MIDI transform che però chiaramente lì non me la fa vedere non me la fa vedere perché non c'è dentro ancora nulla vediamo se con una regione vuota me la fa vedere eccola qua vedi qua puoi fare tutto quello che vuoi fra le varie cose fare randomizzare un po' la dinamica fissare la velocità vedi random pitch random velocity e poi dopo ad un certo punto puoi andare anche tu a lavorare a fare tutto quello che vuoi questa è una pagina veramente molto molto complessa però qua si può fare veramente tantissime cose è un così un argomento un po' avanzato dove però si possono fare molte cose moltissime tenete conto che tante operazioni che logic fa che noi utilizziamo come funzioni lui le va a pescare da qua così come per esempio i midi fx per esempio molti midi fx vanno a lavorare o nell'environment oppure nel midi transform allora allora si aspetta un attimo il discorso allora qua c'è il discorso che mi ha chiesto prima Fabio e adesso si scusami che non ha finito il discorso praticamente quando voi caricate Fabio mi chiede come fa a caricare un preset senza caricare tutti i send eccetera eccetera lo trovate sotto questo menu come vi ho fatto vedere dovete fare enable page merging e vi escono tutte le caselle che potete scegliere cosa importare e cosa non importare ammettiamo che di questo mixer di questo coro io voglio importare soltanto il midi posso lasciare acceso soltanto il midi e spegnere tutto il resto in questo modo carico soltanto il midi o soltanto l'instrument o soltanto gli audio fx o soltanto le mandate oppure posso spegnere tutto credo che sia questo quello che mi stava chiedendo prima Fabio scusate che non ho finito il discorso Marco nel creation template conviene crearsi le pagine già impostate con i tasti numerici e questo è un altro discorso madonna ragazzi ci sarebbe da parlare fino alle 9 di domani mattina allora un'altra cosa bella e importante sono i set gli screen set che ci possiamo impostare e questo è una funzione che ci permette di impostare come per esempio mi sono fatto io adesso voi non li vedete perché mi si aprono sul secondo monitor però io mi posso impostare dei preset diversi vedete ho soltanto il mixer schiacciando il 5 ho soltanto il mixer in questo modo schiacciando il 6 ho il mixer oppure la mia pagina principale come avete visto prima oppure il 7 dove ho sempre la mia pagina principale questa cosa ve la potete impostare qui in questo menu degli screen set una volta che le avete impostate dovete ricordarvi di bloccarlo quindi con il pallino lì di fianco che si accende vi faccio vedere a farne uno che è la cosa più semplice ammettiamo che mi voglio fare un preset con il piano roll e la pagina principale mettiamola sull'1 quindi sull'1 mi metto la mia pagina principale che adesso mi è andata sull'altro monitor sono andato a ripescarla vedete e me la posso impostare come voglio ovviamente vado sotto windows e apro dicevo il piano roll il piano roll me lo metto sotto qua mi preparo la mia pagina in questo modo e a questo punto devo stare attento e devo andare a dirgli lock bene adesso su 7 avrò la mia pagina come avete visto prima e sull'1 invece avrò la pagina come abbiamo impostato insieme questo qua è tutto quello che si può fare sotto gli screenset tenete conto che questo discorso se avete più monitor lo potete ampliare su più monitor quindi volete mettere il mixer sul monitor secondario la pagina principale sul monitor principale eccetera eccetera potete suddividervi il vostro monitor come volete e richiamarlo con i tasti da 1 a 9 quindi è veramente fantastico ciao si può fare una traccia come pre master senza mettere un limite sul canale del master certo basta che ti fai un bus prima ti fai un aux prima se per assurdo questo è il tuo mix ammettiamo per assurdo questo lo puoi mandare al bus 10 ammettiamo e questa diventa la traccia pre master quindi qua puoi farti tutti i tuoi lavori e non vai a toccare la traccia stereo out questo è il metodo che si utilizza e che uso anche io ho letto in libro che nella traccia arrangement è molto meno malleabile rispetto all'utilizzo dei marker e ho notato che se voglio modificare l'utilizzo dentro il corso ho già difficoltà ecco conviene usare solo i marker però la traccia arrangement marker ha delle qualità un po' diverse la traccia arrangement marker dalla quale parla MarkTube la trovo sotto la global track che la apro con la lettera G si chiama arrangement marker ed è questa vi faccio vedere una funzione molto bella della traccia arrangement marker per esempio che se io apro quando schiacci il più lei mi va a mettere dei marker di arrangiamento già preconfezionati diciamo tutte le volte che lo schiaccio mi mette un blocco della mia canzone che io posso prendere spostare e mettere come voglio una volta che mi sono impostato il mio progetto in questo modo la mia canzone in questo modo se vado ad aprire con command option un drummer guardate cosa succede logic mi prepara già una stesura con un drummer che suona esattamente la stesura che ho fissato questa è una cosa veramente molto molto comoda soprattutto immaginatevi ovviamente per buttare giù provini scusate per buttare giù provini per buttare giù stesure un po' veloci questa è veramente una cosa molto comoda questa è la grande differenza invece con i marker normali per fare lo slide di basso se utilizzo il pitch nell'automazione riesco certo che riesci sì sì domanda se per caso mi dimentico di impostare la tonalità dopo aver effettuato una registrazione come posso cambiarla senza alterare le regioni audio allora ragazzi ma non impostate la tonalità all'inizio siamo tutti musicisti non c'è bisogno di impostarla intanto i loop suonano nella tonalità giusta del brano quindi non vi preoccupate è un po' un'impostazione for dummies quella lì io vi consiglio di non utilizzarla come usi la traccia master quella a destra dello stereo out quella a destra dello stereo out questa non la uso praticamente perché dovete tenere conto che questo è praticamente il volume di logic è il volume del programma questo non toccatelo non trovi più il duplicate track che potevo usare nelle versioni precedenti è stato tolto no non sarà stato tolto però il duplicate track vi faccio vedere che ce n'è in modo molto più comodo ma questo anche nel mac si fa se voi fate command D viene duplicata la traccia esattamente con tutte le impostazioni ma senza però le regioni se invece volete duplicare la traccia anche con le regioni dovete andare sopra questo tasto e mentre lo premete dovete tenere premuto il tasto command e a questo punto vi duplica la traccia anche con il contenuto Francesco Marco per colorare le tracce di logic è sempre necessario quel software delle terze parti a pagamento oppure con gli ultimi aggiornamenti è possibile nativamente allora no è possibile colorare le tracce e i marker anche con logic nativamente però non ti colora tutta questa banda ti colora solo il primo pezzettino qua e ti colora solo il primo la banda qua sotto del mixer non ti colora tutta la traccia questa è l'unica differenza Marco però io ho visto che se lascia un po' di spazio iniziale prima della traccia si aggiunge un arrangement si va ad inserire sempre una spazio iniziale si perché l'arrangement track ragazzi è da utilizzare un po' fino a se stesso cioè se lo utilizzate dovete utilizzarlo come è impostato lui non pretendete troppo io lo uso molto poco vi dico la verità io uso quando faccio una stesura soprattutto per così per una una produzione professionale non lo uso l'arrangement marker uso i marker normali quando lo dovete utilizzare cioè è concepito per un utilizzo un po' veloce quindi non pretendiate troppo ecco dall'arrangement marker Ruggero ciao Marco nel mixer come spostare le tracce ad esempio un bus vicino alla traccia specifica non si può a meno che non la metti nella scrivania quindi se tu questo AUX lo metti nella pagina principale allora dopo lo puoi spostare e ce l'hai spostata anche nel mixer però la devi mettere qua altrimenti non la puoi spostare scusami Marco mi ricordi il flex time come posso aggiungere i marker senza utilizzare sempre il mouse oddio nel senso senza utilizzare il mouse lui va a mettere i transient marker dove vedi i transienti quindi per metterli dove non ci sono i transienti devi utilizzare il mouse avevo scaricato un software che mi avevi consigliato per modificare il gain delle tracce in maniera veloce ma adesso è diventato di default sì infatti eh infatti l'avevo scaricato anch'io e adesso sì non lo installerò più nel computer nuovo perché c'è di default il più e meno si possono assegnare dei tasti quello che dice Mark è questo che si possono assegnare adesso dei tasti al change gain io qua non ce l'ho perché è una versione precedente però si può assegnare si possono assegnare dei tasti bene quindi bene o male ah i transient marker niente dove c'è il più piccolino aspetta fa vedere se riesco velocemente i transient marker cioè no aspetta un attimo calma lui li mette in automatico i transient marker se no li devi aggiungere se no li devi aggiungere tu allora c'era aspetta un attimo allora non vedo più no eccolo qua vedi guarda chi è che mi ha chiesto Luke guarda adesso mi è venuta in mente questa cosa che era tantissimo che non la uso vedete imparo tante robe anche io a farvi le lezioni voi perché voi mi date proprio lo stimolo di imparare di ricordarmi anche le cose che non uso più da mille anni adesso mi è venuto in mente che si possano aggiungere dei transient marker nel menu file nel menu file se abiliti appunto la funzione transient editing mode ti salta fuori un piccolo più e un meno per togliere e aggiungere marker quindi qua lo puoi fare però tieni conto che quando arriva al massimo è quando lui ha già visto tutti i transienti quindi bene o male se ne devi andare a mettere di molto particolari li devi comunque mettere a mano però però c'è anche quella funzione lì se voglio cancellare un bass con tutti gli effetti lo faccio dal mixer sì certo certo e perché a volte devi buttare via il devi buttare via sia l'aux di ritorno che andare a togliere dal menu dal menu a tendina i bass ciao 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 è sempre qua vai tranquillo accidenti mi sono collegato tardi dopo riguardo tutto all'inizio quando edito le comp audio appare una finestra pop up che mi dà fastidio quando edito quando edito è questa aspetta che la proviamo subito allora adesso mi appare eccola qua show help tags chi è che me l'aveva chiesto ah ecco Santa Mala è questa hai visto preference general display scusami display general show help tags ti toglie il pannellino che a volte sì a volte in effetti dà fastidio io non ci ho mai pensato ve l'ho detto ve l'ho detto mi fate venire in mente anche le robe che non mi ricordo più ciao Marco ho appena comprato per 2000 euro un Lea 77H Adam e Sonarwork sto volando e beh bel acquisto con il feeder del bus del premaster entri a 0 dB con il feeder del bus nel premaster sì a 0 lo lascio stare tutto sì sì lascio stare tutto ci mancherebbe vediamo vediamo se c'è qualcos'altro mi sono fatto un po' una lista loop browser ve l'ho detto allora vabbè qua di fianco avete il box inspector della regione quindi delle regioni qua sotto avete quello invece della traccia ok quindi qua in alto si va a toccare le regioni tutto quello che fate influenza le regioni selezionate quindi lo potete fare soltanto ad una regione o a più di una e invece sotto andate ad influenzare tutta la traccia tenete conto che non è nulla di distruttivo potete sempre tornare indietro è una cosa che io trovo molto comoda infatti come vedete ho messo nelle preferenze display show default values vedete guardate così non ho mai il nero qua in mezzo non so mai se sono a zero se non sono a zero invece vedo sempre il valore di default illuminato e poi ho messo il come si dice il large inspector dai diventa un pochino più largo un pochino più visibile ah ho messo anche il wide playhead la playhead come vedete guardate diventa un pochino più spessa anche questa è una così una funzione abbastanza importante di visualizzazione che a me piace e poi che dire poi cosa ho fatto beh io utilizzo tantissimo il market tool il market tool è il tool l'unico tool importante ah ecco si può fare vi faccio vedere un attimino aspettate che guardo quanto arriva la licenza ma tu di base a mix terminato a quanto tieni in me il gain generale ma a meno 6 più o meno per gli scorsi al curva dinamica per ora l'ho risolto con un javascript lo scripter trovato online io invece ho una domanda per quanto riguarda licenza di logica posso installare su tutti i mac che voglio senza costi aggiuntivi mi sembra che ci sia a limite di 5 io invece ho una domanda imbarazzante come si apre su logica un new project senza dover aprire per forza l'ultimo progetto ah e guarda è una preferenza anche quella lì che ti consiglio di andarti ad impostare che è qua guarda non ti preoccupare che non c'è nulla di imbarazzante questo è un corso di base per tutti è un corso è una parola grossa sono due chiacchiere di base di logic per tutti qua guarda preferenze o setting se hai una versione nuova general gli devi dire che è start up start up action non deve fare nulla invece tu ce l'avrai sicuramente sull'ultimo progetto recente qua lo metti do nothing e lui non fa più niente quindi ti apre un progetto ti apre solo logic e non ti rovina più nulla ma non è una domanda imbarazzante ci mancherebbe volevo però fare un'ora che ti aveva già fatto su un altro video mi piacerebbe che tu potessi fare un video per quelli come me o per 60 per tanti altri nel mio caso 20 però di cosa? importante un brano? importare un brano e metterlo a tempo ho già fatto mille video di quello lì ho fatto anche il corso quello non è una lezione di base Giuseppe quella è una roba che ci vuole un po' più di tempo è una funzione poi ci sono già ho già fatto diversi video gratuiti sullo smart tempo per chi invece vuole approfondire poi ci sono anche i miei corsi Command R una delle funzioni più belle hai ragione Command R permette di ripetere di ripetere una regione o di ripetere una serie di regioni Command R la cosa molto bella per esempio vi faccio vedere che con il Marky Tool posso selezionare tutta una parte aspettate che faccio un po' di ordine così almeno si capisce qualcosa per esempio con il Marky Tool seleziono questo blocco e lui mi ripete tutto il blocco quindi è veramente super bello il Marky Tool fa tutto col doppio clic taglia seleziona seleziona una parte se voglio mettere in play soltanto una parte di due misure mi fa sentire solo quelle due misure lì schiaccio play e quando arriva la fine si ferma quindi fa davvero tante cose si possono personalizzare i pulsanti traccia assolutamente sì con option T aprite tutto ciò che potete fare che potete mettere sulle tracce quindi se volete il volume se non lo volete se volete il pan se non lo volete se volete i tasti potete togliere tutti i tasti mettere tutti i tasti che volete aggiungere addirittura un nome secondario se volete tutto veramente si può fare tutto le icone le selezioniamo schiacciando con il destro possiamo cambiare l'icona della traccia lo zoom delle tracce anzi lo zoom verticale ce l'abbiamo con command freccia in giù freccia in su command freccia destra freccia sinistra oppure ctrl z per lo zoom di una traccia oppure soltanto la z mette a tutto schermo una parte selezionata o una traccia selezionata questo più o meno sono i comandi principali dello zoom che diventano molto molto comodi e molto molto veloci piccola lezione sulla griglia oddio sulla griglia cosa c'è da dire non lo so magari fammi una domanda un pochino più specifica dove fai un rewind un resoconto di come cambiare la tecnologia spiegando magari cosa sono i vst plugin i termini che si usano oggi per parlare di incisioni midi do eccetera wow è un bel discorso anche quello si allora vabbè il discorso vst oramai vst è diventato il modo per chiamare i plugin anche se logic lo sappiamo che non utilizza il vst ma utilizza un altro formato che si chiama au audio unit però vst viene utilizzato oramai in modo convenzionale quindi si dice i vst poi per il resto ci sono altre mille cose durante la fase di mastering è meglio metterli nella traccia di mix finito o nella traccia stereo out oddio se fai un bass con un mix con un mix bass puoi metterli anche lì magari ti tieni la stereo out per misurare e per avere magari anche qualche reference che va nella stereo out pulita ecco lo zoom delle tracce l'ho appena fatto grazie Fabrizio che me l'ha ricordato command j command j per tagliare no scusa command j per incollare pardon command j incolla le regioni sia audio che MIDI command t taglia una regione alla playhead eccola là vedete che i tool non servono più a niente voglio tagliare una regione lì command la seleziono ovviamente command t però ancora meglio il come sempre ancora meglio il marquee tool doppio clic nel punto dove voglio tagliare con il marquee tool quindi con il command premuto e lui me lo taglia buonasera Nick come faccio cos'è lo slide di un basso ho acquistato una serie di suoni batteria cult drum ma come faccio ad importare tutti i singoli suoni delle varie parti batteria personico alla tastiera ah guarda se tu li prendi e li butti nello spazio bianco qua guarda ti faccio vedere con un suono qualsiasi vediamo snare se tu questo ammettiamo che sia un suono che hai comprato lo porti qui e lo metti nel drum machine designer ti apre un drum machine designer con già tutti i tuoi suoni pronti su ogni tasto e se ci porti dentro più suoni contemporaneamente te li prepara già tutti pronti quindi è super comodo le impostazioni audio in preference device general mi fai vedere le tue certamente Alex eccole qua immagino che ti riferisci a queste allora guarda vi spiego velocemente vabbè a parte la scheda audio ok il buffer io lo utilizzo 128 256 o 32 nei casi in cui ho solo audio quando registro quando mixo lo metto a 1024 e lo lascio lì che non mi serve i recording delay ovviamente va a zero i processi vi consiglio di metterli su automatico lasciate stare anche se conoscete il numero dei vostri processori lasciate fare a lui automaticamente perché anche se a voi non sembra ma logic scusate il computer utilizza dei processi quindi gli serve anche a lui averne liberi quindi non non inoltriamoci in queste preferenze lasciamole come sono fatte che è meglio il buffer range lo lascio medio plug back track ovviamente 64 bit e rewire lo lascio spento semplicemente così buonasera una curiosità sul tema se possibile quali plugin simili a convology della Waves o delle altre case grazie convology è il riverbero a convoluzione giusto è perché della Waves se utilizzi logic ce l'hai già hai già il suo nativo che è simile a convology perché è un riverbero a convoluzione che è lo space designer eccolo qua questo qua è un riverbero a convoluzione e mi permetto di dire molto più bello di convology Marco dovresti fare un video su come ti organizzi quando devi passare tutti i plugin sul nuovo Mac è un'esperienza che ho fatto da poco ed è stata un'odissea ah ma io ristallo tutto io da questo punto di vista vi deluderò perché io ristallo tutto da zero io quando faccio i cambiamenti epocali ristallo da zero carissimo Marco ben ritrovato grazie Leone bella grafica ho due monitor da 49 pollici e vorrei splittare la finestra mix sul secondo monitor non ce l'avevo pensato ma oggi lo può fare certo l'ho fatto vedere prima vai a vedere vai a vedere un po' indietro l'ho fatto vedere ciao Raffaele sono un reduce di guerra protulsignano pertanto è da poco che sono entrato grazie alogic ammetto che alogic per i miei metri di lavoro è decisamente più veloce sì ma l'ogic per molti aspetti è molto più veloce ah non hai logic allora dunque della Waves c'è l'IR1 è un scusami clarinato basso davo per scontato che tu avessi logic mi fa piacere però che c'è anche della gente che non ha logic che segue questa lezione bello bravi e niente quindi l'IR1 ed è anche molto bello è anche una libreria oserei dire bella vasta e basta direi che ragazzi diciamo che le basi sono tutte qua poi vabbè ovviamente faccio un po' di promozione il mio libro per chi ancora non ce l'ha qua insomma approfondisco bene il programma do le basi come dico all'inizio e cose nelle quali io ci credo tanto perché vedo che manca un po' la prima parte sono tutti molto preparati nelle cose molto complicate molto avanzate e tante volte mancano un po' le basi e ci credo tanto e tanto è vero che il mio libro l'ho fatto così i miei corsi poi si può andare a prendere i miei corsi parlo dello smart tempo parlo del drummer approfonditamente insomma sono tutti come dico nel libro sono tutti software all'interno del software quindi anche parlare dello score editor ci vogliono 5 ore cioè nel senso non è una cosa di base ecco c'è un modo per fare il crossfade automatico tra due spezzoni dunque lo devi impostare però allora vi faccio vedere una cosa molto interessante parlando di fade parlando di fade guardate il metodo più veloce e più bello secondo me è quello di tenere premuto ctrl shift e trascinare guardate e si fanno i crossfade anche per fare il fade iniziale tenete premuto sempre ctrl shift trascinate e fa il fade iniziale oppure il fade finale vedete super comodo oppure in alto il puntatore potete fare in modo che si trasformi in fade tool questo lo trovate nelle preferenze non mi ricordo quali credo sempre display no aspettate qua general editing fade tool click zone vuol dire che in alto nella parte alta della regione diventa fade tool market tool click zone vuol dire che nella parte nella metà inferiore diventa market tool senza schiacciare invece il tasto command questo è molto comodo domani ordini l'arturia essential 49 la posso utilizzare in coppia con l'axion air 25m audio o meglio utilizzare entrambe no 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 le puoi utilizzare tranquillamente insieme allora se ho dei progetti di logi su un cloud o un disco esterno è meglio trasferirli in locale per lavorare posso anche lavorare trascinandolo dove allora se hai un cloud che è abbastanza veloce la linea è abbastanza veloce allora per carità puoi fare tranquillamente puoi lasciarlo tranquillamente lì io me lo tiro dentro prima o comunque su un disco esterno va benissimo guardate che non è che c'è bisogno di questa grande velocità di trasferimento leon dopo riguardo il video io reaper grande bellissimo anche reaper sono tutti belli ragazzi i software basta che li conoscete e sono tutti belli ho tutti i ricorsi di libro per ora aspettiamo quello sul messaggio di un brano proprio questo grazie a tutti i ricorsi il libro ma ora aspettiamo ok ciao marco col drum di logi si possono isolare i singoli elementi di batteria guarda si può fare molto di più vi faccio vedere allora tenete conto che logica ha due possibilità di drummer anzi di drum kit designer in questo caso aspettate che spegniamo un po' di roba tolgo un po' di cose così facciamo un po' di ordine allora in questo caso se apro il mixer io vedo che ho facciamo un po' di ordine delete perfetto allora in questo caso vedete che ho un canale dal mixer che mi esce tutta la mia batteria socal però se vado nella library e vado in fondo trovo la cartellina producer kits in questa producer kits io troverò ancora il mio kit socal però con un più di fianco vuol dire appunto che aprirò un producer kit una volta che ho aperto il producer kit la mia parte rimane identica ma nel mio mixer avrò una una stack folder dove avrò tutti i miei canali separati tutti i miei microfoni separati dalla mia batteria e questa è una cosa fantastica è stato un piacere il tuo libro è acquistato ma il corso fatto live è perfetto ti cercherò di stare insieme a te mentre lavori in un mese sarei già ad un eccellente livello e sei una risorsa preziosa wow grazie Alex siete anche voi molto preziosi per me sappiatelo stare vicini a uno a lavorare ovvio che che è il sistema migliore ragazzi però è sempre più difficile purtroppo però altra piccola pubblicità faccio le lezioni è one one on one insomma quindi nelle lezioni siamo è una cosa individuale quindi siamo comunque online perché le faccio su zoom però io ho l'abbonamento quindi comunque trasmetto in alta definizione e insomma nelle lezioni vedo che i ragazzi sono è come lavorare insieme cioè si lavora insieme in pratica quindi se qualcuno vuole approfondire delle cose vuole fare un percorso sapete l'ho anche appena promozionata da poco sapete che ho anche questo servizio fra le altre cose compongo pezzi house elettroniche remix che settaggi mi consigli per un mastering iniziale oddio il mastering è un ragionamento ragazzi che non lo si può fare in pochi minuti ma anche semplicemente non si può catalogare un mastering iniziale perché dipende il mix di cosa ha bisogno il problema è quello cioè bisogna sentire il mix il mix può anche non avere bisogno di mastering in qualche modo quindi è una domanda molto difficile il libro lo puoi acquistare guarda se vieni sul mio sito o anche qua sotto al video che stai guardando trovi il link per acquistare il mio libro grazie mille Fabio battuta Marco se la maggioranza di chi ti segue non ha logic ah 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 eh beh guarda se la maggioranza di chi mi segue non ha logic vuol dire che ho raggiunto un bel obiettivo vuol dire sarei cioè voglio dire mi fa piacere perché comunque si parla così un po' in generale che poi sai la maggior parte delle cose che si dicono anche per dire il mio corso sugli audio fx l'hanno comprato tantissimi che non usano logic perché comunque è un corso sugli effetti e sui processori quindi serve a tutti no? ciao Marco sono passato da Windows a Mac e do una domanda vai ho visto che Mac legge anche i VST3 ci sono differenze per stazionali tra uno VST3 uno studio no assolutamente no stai tranquillo the horrible character che stai tranquillo che l'unica cosa è che gli audio unit li legge logic e i VST3 li legge studio one quindi utilizza pure anzi mi sa che studio one su Mac legge anche lui gli audio unit ma non c'è nessuna differenza usa quelli che vuoi tu quello che ci ha insegnato subito mettere in pratica e fare esercizi di prova per mezz'oretta il metodo migliore sì è vero vabbè dai ragazzi direi che io sono soddisfatto ok passiamo alla camera dai io sono soddisfatto sono contento di averla fatta questa cosa questa cosa è una cosa dovevo farla un po' per tutti è inutile poi mi spiace quando vedo che gente spende un sacco di soldi per queste basi queste basi devono essere un po' a disposizione di tutti poi dopo per crità vanno approfondite intanto poi viene in automatico che uno debba approfondire e io sono contento dai se avete ancora qualche domanda a fianco al mio ufficio si è aperto un piccolo studio di registrazione ma ho usato Ableton se avessero usato logic avrei trovato il Nirvana e vabbè dai si può fare uno split sul drummer per fare la sequenza sui tom 1 e poi tom 2 con la tastiera si assolutamente guarda si può fare tutto sul drummer vi faccio vedere l'ultima cosa tieni conto che la traccia di drummer una volta che l'hai come si dice che che l'hai programmata la puoi anche convertire in midi in regione midi normalissima quindi dopo da qui puoi entrare nel piano roll e fare tutto quello che vuoi come se fosse una normalissima regione midi quindi con questo credo di avere risposto anche alla tua domanda comunque sul libro c'è tutto si sul libro c'è tutto ragazzi c'è tutta la tutta la base di tutto logic c'è ovviamente non si può entrare nello specifico però c'è tutto sono da sempre utente cubase mi trovo benissimo ma se dovessi cambiare passerei a logic lo trovo molto simile al tuo semplicissimo ti seguo sempre perché è utile lo stesso sì infatti è vero fabio cincine anche a te grazie mille grazie ancora anche a voi ragazzi davvero marco grazie sei veramente unico ho perso la passione per registrazione con te il tuo canale l'ho ritrovata wow che bella cosa molto più forte di prima wow francesco mi hai detto una bellissima cosa emozionante bene ragazzi niente dai ci salutiamo ci vediamo la prossima settimana ovviamente noi ci vediamo sempre intanto oramai siamo sono sempre qua ci vediamo martedì che sono da da David a chitarra a chitarra facile poi ci vediamo con il video della settimana ci vediamo con i reel e ci vediamo sempre e ci vediamo domenica prossima e domenica prossima siamo ancora qua nel nostro aperitivo bellissimo mando un abbraccio a tutti grazie mille davvero di essere stati qua con me e che dire ciao buon fine domenica ciao